Buongiorno buongiorno ragazzi, spero mi sentiate decentemente anche con la mascherina oggi mi accompagnerete a fare un paio di commissioni qui da me intanto vi porto magari giù al mare e facciamo un paio di chiacchiere c'è anche una splendida giornata, si sta benissimo poi qui confronto che la Lombardia si sono a meno 5-10 gradi in più sto andando un attimo in banca che devo depositare dei soldi la ricaricabile perché andrò a comprare qualcosa in più per il canale ovviamente ultimamente ho fatto veramente un sacco di spese computer, accessori vari per la fotocamera, nuovi obiettivi obiettivo vecchio della fotocamera mi si è rotto, cavi, cavetti, chi più ne ha più ne metta sto andando a comprare qualcosa che non vi svelerò è già uscito anche il 2 di questo prodotto però prenderò l'uno anche perché il secondo che è appena uscito costa veramente tanto e non ne vale ancora la pena quindi andrò a prendere l'uno, si può fare un sacco di cose magari indovinate, scrivetelo qua sotto ovviamente nei commenti è qualcosa che serve ovviamente a fare video e a fare video in movimento vediamo sbizzarritemi, vediamo se qualcuno di voi indovina cazzarola mi sono appena accorto che le mie cuffie sono scariche non sto più uscendo ormai da quando sono tornato qua in Liguria anche se sono rimaste in tasca, sì le avevo già usate però si sono scaricate quindi sono senza musica, io odio andare in giro senza la musica tralasciando questo sto andando a fare un magheggio tra virgolette ma semplicemente perché ho la ricaricabile dell'intesa San Paolo e ovviamente devo metterci sopra dei soldi per poter fare acquisti su Amazon l'unico altro modo era trasferire i soldi ma avrei dovuto fare un bonifico e ci metteva più giorni quindi semplicemente sto andando a mettere dei soldi che avevo in tasca a caricarli sulla mia carta per poi poter fare acquisti su Amazon intanto che ci ero detto why not? Facciamo un giro, facciamo un vlog in giro che vi piacciono tanto, sicuramente più dei miei gameplay ragazzi tornerò a fare sicuramente più vlog anche perché comunque piacciono farli l'unico problema ovviamente sapete che adesso è il covid poca possibilità di spostarsi o girare molto almeno non quanto facevo prima quindi niente guys sto andando a fare questa cosa poi vi porto a fare un giro giù in spiaggia al mare così faccio dare un'occhiata anche a voi se state in città in mezzo alla nebbia più che altro soldi appena messi e niente noi facciamo due passi sulla spiaggia sugli scogli e niente ragazzi soldi messi ora sono qui a godermi un po' di mare e spiaggia oggi si sta da dio c'è abbiano anche una mascherina che sto morendo intanto sono da solo che dire ormai non sto uscendo quasi più da quando sono tornato qua a Liguria fino a un mesetto e mezzo fa stavo a Milano come molti di voi sapranno però sono tornato qui in Liguria ho una casa qui sono tornato qui anche perché Milano era sempre in zona rossa ok che adesso è diventata zona gialla e siamo qui in Liguria in arancio quindi vabbè comunque vabbè passerà anche questa solo che la differenza è che qua io non conosco nessuno diciamo almeno non nella città dove vivo ho amici, amiche a Genova, qualcuno a Savona però si limita a lì e adesso che non possiamo neanche spostarci in diverse città esco veramente raramente, sto più a lavorare comunque al PC di solito sto a pensare cosa fare di nuovo perché voglio portare sempre cose nuove sul canale voglio tornare a fare molti più vlog come già dicevo prima infatti questa cosa che vado a comprare dovrebbe arrivare giovedì oggi è martedì e niente ovviamente mi aiuterà per i vlog mi aiuterà anche per i vlog questa primavera estate che tornerò comunque a fare escursioni magari in montagna ovviamente in generale serve a un po' tutti i vlog non è una gopro quindi vi do questo grosso aiuto detto sbizzarribili qui sotto vediamo chi indovina ho già dato molti indizi quindi sicuramente l'avrete già capito non so se li vedete c'è anche gente dov'è lì in acqua per esempio in acqua tutto inverno qui vengono i surfisti vieni con la muta, se ne fregano stanno anche nel ghiaccio a fare surf anche perché in inverno ci sono molte più onde che in estate però vabbè ci sono le giornate ventose con le onde anche in estate però fatica a posi di tenerli a capire ci sono penso 15 gradi o qualcosa in più oggi infatti dovete tirarvi anche la giacca perché fa un caldo della madonna niente ragazzi devo rifare questa parte che era durata in 5 minuti semplicemente perché da stupido avevo lasciato la fotocamera principale girata al contrario lo sto facendo col telefono questo vlog perché sto aspettando ancora l'obiettivo per la mia Sony Alpha perché sì ho l'obiettivo ma non ha l'autofocus quindi facendo questi vlog in giro rischia che magari poi non venga a fuoco quindi sto usando il mio bellissimo Redmi Note che comunque direi che fa dei video qualità top niente avevo detto un sacco di cose ma in poche parole stavo parlando del fatto che ultimamente ho speso comunque tanti tanti soldi per portare nuovi contenuti sul canale per portare contenuti migliori per piacere personale perché comunque mi piace fare questo tipo di video mi piace portare anche gameplay mi piace portare vlog anche se come detto ora il vlog riesce un po' più difficile dato che in questione covid è difficile spostarsi comunque almeno che non sia uno spostarsi per lavoro ma va male anche quello cosa stavo dicendo prima e niente comunque vabbè sono andato a prendere un pc nuovo ad assemblarmi un pc nuovo non avevo un pc fisso avevo quello portatile ma iniziava ad essere difficile portare buoni contenuti comunque editare video troppo pesanti volevo poi portare anche gameplay volevo iniziare anche a streammare quindi ovviamente un pc fisso serviva ho messo anche la fibra perché anche quella serviva prima lavoravo con un wifi portatile ci mettevo 10 ore a caricare un video o col mio altro pc ci mettevo veramente 10 ore non sto scherzando ad esportare un video a volte ci ho messo anche più di 10 ore per esportare un video neanche troppo pesante e neanche con troppo editing quindi era impossibile mi andava a portare cose migliori fatte meglio sicuramente questo e quindi niente sono andato a fare un po' di spese ovviamente anche per la mia fotocamera ho una sony alfa 5100 però ho preso nuovi obiettivi mi si è rotto il vecchio obiettivo quindi adesso sto aspettando che arriva ho preso adattatori per altri obiettivi comunque vi porterò adesso più spesso vlog vi porterò più spesso anche recensioni comunque a diversi prodotti voglio portarvi, farvi vedere magari darvi consiglio comunque solo mostrarvi prodotti che magari possano tornare utili anche a voi ho intenzione di portare comunque più cose di questo genere continuerò a portare anche gameplay ma ovviamente questo canale non è nato per i gameplay infatti vedo che è poco seguito da quel lato scusate ero distratto da una papera che c'è in acqua non so se l'avete vista niente ragazzi quindi questo era più o meno un po' il punto che volevo fare vedere usciranno tutti i giorni sempre 18 video quindi non perdetevi seguitemi comunque sui miei account instagram ne ho due uno per il canale youtube e l'altro mio quello per il mio primo lavoro da modello seguitemi su twitch sotto trovate anche tutti i vari link sia al mio shop che anche alla mia affiliazione di amazon dove potete trovare comunque i vari prodotti che vado a comprare su amazon a testare e che uso comunque ovviamente per il canale per fare le riprese eccetera eccetera però comunque ragazzi si è fatta una certa sono le 5 tra un'ora esce il video sul canale e non ho ancora fatto la miniatura mi sono scordato dovevo farla prima quindi adesso corro su a fare la miniatura per il video di oggi ho anche fame non ho ancora pranzato ho fatto colazione a pranzo quindi vabbè quello è stato il mio pranzo più o meno e adesso si torna su e vado a mangiare ho casa qui al mare ma adesso mi devo fare una salita perché io sto su morirò ragazzi perché ogni volta che devo fare quella salita arrivo su stremato e adesso non fa neanche caldo l'estate quando di solito vengo qua devo tornare su magari che non è già sera quindi si schiatta ancora dal caldo è un bordello perché arrivo su stremato tipo strusciando perdo 10 chili solo a salire non so quanto renda in camera ma ho già fatto tutto sto pezzo c'è ancora tutta qui la salita più il pezzo peggiore che è quello dopo e fidatevi non rende ma è così niente ragazzi con questa luce mi ero dimenticato di fare il video outro e niente sono arrivato vivo da come potete vedere ho già finito di montare il video a parte questo ultimo pezzettino e spero vi sia piaciuto questo vlog spero sia uno di tanti altri che inizierò a portare ho dato un'occhiata come ho detto a tutti i link sottostanti per qualsiasi cosa la mia pagina da fotografo i miei due account instagram faccio tante cose e i link sotto alla mia affiliazione di amazon che potete trovare tante cose utili io ovviamente prenderò una percentuale se usate quei link per comprare qualcosa e niente ragazzi seguitemi anche sul canale viola che altro dire nient'altro bella e anche sul canale viola